Buongiorno a tutti, oggi parliamo di azospermia, causa estremamente importante da un punto di vista epidemiologico e fisiopatologico di infertilità al maschile. Da un punto di vista scusitamente di inquadramento, se vogliamo, fisiopatologico e diagnostico, dobbiamo distinguere due grandi tipologie di azospermia, una azospermia ostruttiva e una azospermia invece non ostruttiva. Le due hanno una diversa modalità di inquadramento da un punto di vista diagnostico e da un punto di vista terapeutico un approccio che possiamo descrivere come diverso ma con comune intendimento di recupero degli spermatozoi. Per la azospermia infatti si intende la completa assenza di spermatozoi a livello del plasma seminale e quindi causa sufficiente per infertilità di coppia. Da un punto di vista squisitamente diagnostico, per poter arrivare a fare diagnosi di azospermia oggi si ritengono necessari non meno di due spermiogrammi consecutivi, anche se le ultime informazioni, i risultati delle ultime ricerche ci portano a credere siano necessari non meno di quattro spermiogrammi consecutivi, meglio se eseguiti dalla stessa mano, al fine di poter conclamatamente dichiarare un paziente azospermico, cioè privo di spermatozoi nel plasma seminale stesso. Una volta che questo è stato fatto, ed è l'atto pratico più semplice, dovremo cercare di ascrivere la azospermia, cioè la mancanza degli spermatozoi, ad un quadro di tipo appunto ostruttivo, tale per cui gli spermatozoi non siano capaci di uscire dal testicolo fino ad arrivare ai dotti eiaculatori, quindi al collicolo seminale ed infine all'uretra anteriore, versus quei pazienti che, al contrario, soffriranno di un problema di tipo non ostruttivo, per cui il danno sarà testicolare intrinseco, la porzione esocrina del testicolo, meno capace, se non addirittura del tutto incapace, di produrre spermatozoi in quanto tali. Come faccio a diagnosticare? Questo è il reale aspetto importante che ci permetterà di fare una diagnosi differenziale, quindi di approcciare praticamente il paziente. Le forme ostruttive verranno diagnosticate mediante un profilo ormonale con un normale valore di gonadotropine. Siamo soliti ormai a livello internazionale utilizzare, oltre alle gonadotropine FSH e delle H, anche un diverso ormone polipeptidico che chiamiamo inibina B, prodotto sostanzialmente a livello delle cellule del sertoli nell'adulto e capace di darmi, con il valore della FSH, una sorta di riserva funzionale della porzione esocrina del testicolo. Normalmente i soggetti con aziospermia ostruttiva hanno valore di FSH e di inibina nel range di normalità. Per poter andare a concludere un valore diagnostico in questo senso, in modo molto pratico, molto semplice, dovrò accertarmi che il paziente non abbia una alterazione delle vie genitali che potranno essere o francamente ostruite o addirittura mancanti. Come faccio? Lo faccio andando a studiare un profilo genetico, nello specifico soprattutto analizzando il gene CFTR e mutazioni del medesimo, grazie a uno studio molecolare del gene TR che potrò fondamentalmente eseguire tramite un semplice prelievo del sangue e poi grazie a una valutazione ecografica, mediamente ecografia scrotale ma anche ecografia transrettale dedicata allo studio delle vie seminali stesse, quindi vescicole seminali, dotti deferenti, dotti eiaculatori laddove possibili. Ai fini pratici è sempre consigliabile avere una mano esperta perché l'ecografia, come tutti sappiamo, è estremamente operatore dipendente ma ai fini pratici è importante che sia un bravo operatore con expertisi in questo specifico area di interesse. Per quanto riguarda invece gli aspetti della zoospermia non ostruttiva, valgono le stesse regole, quindi un profilo di tipo ormonale, molto importante FSH, LH, l'inibina B, che in questo caso sarà il più delle volte molto bassa a fronte di un valore di FSH molto elevato oppure fondamentalmente modestamente elevato. In questo caso descriveremo una zoospermia non ostruttiva ascrivibile a un quadro di ipogonadismo primario, cioè da sofferenza primitiva del testicolo stesso e dovrò corroborare la mia diagnosi andando fondamentalmente a valutare ancora una volta un cariotipo, quindi un assetto cromosomico. Certamente concluderò con uno studio molecolare del gene CFTR perché talvolta alterazione del medesimo o polimorfismi del medesimo ci possono dare fondamentalmente quadri di tipo severissimamente oligozospermico o proprio azospermico e certamente non devo dimenticarmi dello studio molecolare che vada a diagnosticare eventuali microdelezioni del cromosoma Y. Al contrario potrei avere un quadro di azospermia non ostruttiva per una deficienza non già testicolare quanto dell'asse ipotalamo ipofisi gonadi, quindi a partire dall'ipotalamo meno capace di stimolare l'adeno ipofisi e di conseguenza quest'ultima meno capace di stimolare il testicolo stesso. Come faccio? Andrò ancora una volta a valutare FSH e LH. Qualora questi fossero particolarmente basse dovrò cercare una terapia di tipo ormonale. Nei due casi di azospermia non ostruttiva da ipogonadismo e di azospermia ostruttiva il retrieval degli sperantozoi, cioè il recupero degli sperantozoi avverrà per via chirurgica. Oggi siamo soliti impostare una microchirurgia dell'epididimo o del testicolo, generalmente con una aspirazione pedidimaria nelle forme ostruttive e una tese, cioè un prelievo di polpa testicolare che oggi viene più frequentemente eseguito in microchirurgia e chiameremo l'intervento microtese per le forme di tipo non ostruttivo da ipogonadismo primario.